Adesso invece è il primo degli umani. Tanto vediamo lo scalzo. Ah, mamma mia! No, questa poi no. Pazzesco. Mamma mia! No, questa poi no. Pazzesco. Zoppica un po', è stato investito dalla cameraman. Queste sono riprese non della regia internazionale ma della... Adesso invece è il primo degli umani. Tanto vediamo lo scalzo. Ah, mamma mia! No, questa poi no. Pazzesco. Mamma mia! No, questa poi no. Pazzesco. Zoppica un po', è stato investito dalla cameraman. Queste sono riprese non della regia internazionale ma della... Pazzesco. Grazie a tutti